A casa tutti bene, la serie, siamo con Simone Liberati, Silvia D'Amico e Francesco Scianna, voi siete rispettivamente i fratelli Ristuccia, Carlo, Paolo e Sara, personaggi che avevamo già incontrato nell'omonimo film del 2018, com'è stato il vostro approccio alla serie e quanto avete preso dal film? Vuole iniziare? Siamo sempre questa cosa, per gentilezza, quindi prego Francesco. In realtà l'approccio con il film è stato solo iniziale, quando tutti abbiamo scoperto del progetto è naturale che ognuno di noi è andato a guardare il personaggio che avrebbe dovuto rappresentare, però il lavoro che poi abbiamo fatto sulla serie è molto diverso da quello del film. Gabriele ci ha confessato che in una sua prima fase di scelta iniziale ognuno di noi aveva in sé qualcosa, qualche gancio che lo riportava all'attore del film, però il nostro percorso è stato completamente differente, ognuno di noi ci ha messo del suo, le storie si evolvono, cambiano, se è possibile siamo ancora peggio di quelli del film, quindi è stato tutto una novità. Abbiamo cercato anche, io credo, almeno nel mio caso, di dimenticare poi il più possibile il film, cioè di rimuoverlo, perché sarebbe stato poi quasi un impedimento alla creazione poi di un personaggio completamente nuovo, perché è quello che poi volevamo anche fare, cioè portare del nostro dentro il racconto di questi personaggi che dovevano essere comunque nuovi. E anche Gabriele non ha mai posto il film come riferimento o come cifra alla quale appunto riferirci e su cui lavorare, insomma, quindi siamo stati sempre molto liberi. Sì, idem nel senso che la storia della serie sviluppa, secondo me, anche tematiche differenti, ha un ampio respiro che affronta, se vogliamo, i rapporti anche legati ai genitori in maniera molto più approfondita e interessante. Devo dire che inizialmente io chiaramente avevo già visto il film prima di sapere del progetto della serie e quindi quando leggevo la serie mi compariva ogni tanto l'immagine dell'attore del film e poi piano piano è andata via e poi, insomma, immergendosi nella storia e abbiamo, credo, dato proprio vita a personaggi differenti. Io parlo solo con la musica sotto.